Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Davide e oggi ragazzi siamo in un video che ho deciso di fare e che sono uno dei pochi, se non l'unico, a fare un video sull'allevamento del grillus campestris ovvero grillo campestre Il grillo campestre è un grillo di piccole dimensioni, generalmente nei maschi da 1,80 cm fino ai 3 cm e nelle femmine dai 2 cm ai 3,50 cm Questi grilli sono molto aggressivi, infatti ogni maschio si scava la tana inizio primavera quando diventa adulto e non fa entrare nessuno eccetto la femmina La differenza principale tra maschio e femmina è che il maschio possiede ali trasparenti e giallognole ed è un po' più grande, la femmina è un po' più piccola e delle ali nere e lunghe che ricoprono la lunghezza del suo intero addome anche nello stadio adulto Un'altra caratteristica che differenzia il maschio dalla femmina è che la femmina è l'opopositore e il maschio invece no I grilli campestri hanno una cosa di diverso in confronto agli altri grillidi nel senso che gli altri grillidi si accoppiano nel normale modo mentre la femmina salirà sopra il maschio durante la stagione dell'accoppiamento e verrà trasferita dal maschio una sacca gialla o bianca a seconda dell'età del maschio che servirà appunto a contenere le uova che la femmina andrà a deporre a inizio inverno o a inizio estate Il grillo campestre è una delle pochissime razze se non l'unica a fare il tipo di muta versione mignon nei diversi stadi Infatti le neani di appena nate sono, se vogliamo chiamarle così, la versione ridotta di una quindicina di volte quindi veramente minuscoli dei grilli, infatti sono molto molto piccoli senza ali e la vista non sarà sviluppata come quella degli adulti Insomma la crescita dei cuccioli sarà un grillo che aumenta di dimensioni man mano che vive ma solo nello stadio adulto manifesterà le ali Per assicurarci un buon allevamento di questa razza occorre che sia almeno di 30 cm x 40 cm Almeno queste dimensioni bastano dai 3 ai 10 esemplari Se vorremmo ospitare un centinaio o addirittura un migliaio di esemplari ci serviranno vasche di enormi dimensioni ma permetteranno una crescita della prule molto molto veloce e soprattutto agilità nei grilli che vivranno leggermente di più della vita in natura La temperatura adatta a questi grilli è dei 20 ai 35 gradi non superiore e non minore Altrimenti i piccoli moriranno sul colpo e gli adulti ne risenteranno gravemente perdendo arti e antenne e subentreranno anche il calimbalismo oltre che non mangeranno nemmeno la frutta e le altre cose che metteremo noi Ma c'è una cosa davvero davvero importante per realvivare questa specie Ovvero la terra Non è la semplice presenza della terra un centimetro o due centimetri Dovete mettere almeno 15 cm di terra perché i grilli scaveranno a un certo punto della loro vita Premetto che gli adulti comprati in cattività o catturati in natura non scaveranno la tana e sono molto spaventati perennemente Ma i piccoli una volta arrivati allo stadio adulto saranno abituati e quindi la scaveranno Gli adulti comprati o catturati come vi stavo dicendo prima non necessitano per forza della terra e quindi potete metterli anche tra i cartoni o potete usare anche la carta o il legno Ma i piccoli necessitano assolutamente della terra altrimenti il loro ciclo non sarà perfetto Il grillo campestre da agosto fino a inizio ottobre diciamo così perché quella è più o meno la durata del loro canto canteranno con le loro grosse ali che hanno sfregandole l'una e l'altra talmente veloce da produrre il suono a stridulo che sentiamo noi l'estate ovvero il classico cri che sentiamo anche nei nostri film Il grillo non smetterà di cantare finché non arriverà una femmina Possono cantare a qualunque ora del giorno ma l'ora in cui possiamo ascoltare di più è dalle 8 alle 5 di mattina In rari casi dimostrano che il grillo in calore potrebbe cantare anche dalla mattina fino alle 5 di mattino non oltre attivamente le alle si spezzeranno Questa è una breve dimostrazione del canto del grillo campestre Questa è una grande dimostrazione del canto del grillo campestre L'alimentazione di questi animali è molto molto varia Infatti non sono animali schizzinosi affatto Divorano dagli ascriventi degli animali fino alla verdura alla frutta fino agli insetti morti Diciamo che si adattano alle loro necessità Le madri possibilmente vanno separate dai cuccioli perché potrebbero mangiarli in caso di mancanza di cibo o per la mancanza di salute dei piccoli o della madre Quindi è importante che si separino Il padre non avrà nessun effetto sui piccoli in quanto si dimenticherà della loro nascita dopo pochi secondi Io sinceramente consiglio l'allevamento di questi grilli non come insetti da pasto ma bensì come animali da compagnia ad esempio una tarantola o un'iguana Perché? Perché sono ottimi insetti sono molto molto belli da guardare Infatti il loro colore nero le loro grandi elitre e il loro grande capo permettono una visuale incredibile della natura in fatta persona Ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace andate anche sulla pagina di Facebook Just with David E ragazzi volevo dirvi che ho aperto la pagina Instagram ovvero Davide Carrieri Non ho messo ancora le foto del canale ma potete trovarlo lo stesso vedendo l'immagine della nostra vecchia icona E vabbè ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi